Cosa? C'è Psycho che pinga 140 dal nulla 158 Ma come cazzo hai fatto? Ma che ha oggi? Bra Poi i Maya dicevano, quindi dove sono i cittadini Chi cazzo mi stanno? ECCO! E ne ho due Sto venendo, tu parla dopo domani Non io parlo a difenza 2 secondo me Te ne arriva un terzo Tu chi hai? Olli Sul micotone è darker Non è nessuno Che cazzo dici? No